Sabato 14 marzo, altra puntata XL Extra Large di Pausa Posta, quindi più cartoni, più letterine, più disegnini e soprattutto anche delle notizie. Se oggi vi piacciono i lost, continuate a seguirci. Oggi, come vedete, non c'è Geo, quindi una puntata tranquilla, rilas... Scusi, dov'è il bagno? Dov'è il bagno, questa cerca il bagno. Vabbè, comunque dicevamo, non c'è Geo, quest'altra uscita, non ci sono problemi, quindi siamo io e noi, noi e io. Quindi cominciamo a leggere la prima letterina. Cara redazione di Pa... Io e noi. Mi chiamo Giorgia e ho 10 anni, vivo a... Scusi? Sì. Una domanda, Scusi. Dov'è il bagno? Il bagno, allora guardi, il bagno è di là, vada molto, molto... Sì, è di là, va bene, di là, andiamo di là. Venga qui, venga qui, allora guarda, si sieda un attimo. Andiamo lì, andiamo lì. Dove devo andare? Si sieda qui un attimo, venga sulla sedia, venga sulla sedia, ecco, allora l'aiuto io ad andare al bagno, eh. Faccia così, lei si fidi? Si? Si affidi a me? Sì. Guardi così, prenda un bel respiro, faccia... Oh, e va via. Vi seguo tutti i giorni, ci scrive Giorgia, tranne quando devo fare i compiti. Scusi? Mi ha mandato nello scappuccino delle scope? Eh, non avrà fatto la pipì lì, vero? No, assolutamente. Scusi, ma lei chi è? Eh, beh, Pinuzza, sono sempre io, Michele. Michele! E Bertone, Michele, ben 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 ben... Benvenuti, non è benvenuti, è benvenuti. Lei ha problemi di pronuncia, io l'ho sempre detto io, eh, deve fare un po' di dizione. Faccia finire di leggere le lettere che c'è scritto. Geo, non viene, è andata a fare la pelicula. Che? La pelicula. Trovo che Giorgia sei molto carina, ci scrive Giorgia. Eh, lo so, mia cosina è una gran bella ragazza. È una bella ragazza, invece Michele è un po' dispettoso con Geo. Eh, che è un po' puzzoloso, come mai sei puzzoloso? Dispettoso, dispettoso, in effetti si emoziona. Che annusa, ma che fa, che annusa? Lui si emoziona sotto le scine. Quello è il mio cugino, lei non confonda me con mio cugino, che si emoziona. Guardi, quando parla con me, guardi da quello, non faccio questo sorriso a mille denti. Mentre invece il fratello di Giorgia trova che Michele è molto simpatico, ha quattro anni, però già... Ha un po' lunatico, e va bene. Simpatico, poi scrive due cose molto carine, scrive, Geo per me sei una gemma, è anche molto bella, fa un anello. E se lo so, mia cosina che adesso è molto impegnata, però si porterà alcun messaggio. Non ho capito niente, cos'è? Mia cosina è molto impegnata, però io porterò questo messaggio a lei. Ah, porterò questo messaggio. Michele, lei non tra le problemi di pronuncia, è anche un po' sordo, se lo faccia di fretta. E poi Giorgia, qui ci fa due fantastici... guardi da quella parte, fa due fantastici Rebus. Ora li teniamo da parte e li utilizzeremo, giuro prometto, sulla puntata dei Rebus. Fa bene Michele, posso leggere anche io una letterina? Provi a leggere una letterina, vada. Sìììììììì! E allora? Che fa? Ha difficoltà a leggere. Ha difficoltà a leggere. Ciao, mi chiamo Mattia, spero che il mio disegno vi piaccia e desidero che sia attaccato al muro. Poi va bellissimo, ha nove anni e faccio la testa elementare E il mio castello preferito è di zino e pollo Michele è molto simpatico, ma anche Gio è divertente Ma meno male, che Gio è divertente E naturalmente dobbiamo far vedere il disegno che ci ha mandato Guarda, 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 guarda Sì, stiamo guardando tutti Guarda, Michele, guarda Ah, con queste mani Allora guardate, Miche è Gio sul prato fiorito E dietro ci sono anche E me c'è Gio senza capelli Queste siamo carini, guarda Michele Questo è quello che succede, il panorama che avremo fra una trentina d'anni Michele, che cosa sta dicendo? Niente, sono incomprensibili Sono incomprensibili Deve attaccare questo disegno al muro No, no, sì, non metta la puntina però Ok, va bene, attacca Ecco, attaccato al muro, va bene? Scusi, dov'è il bagno? Scusi, vada a cercare il bagno Ma che bello, è una bellissima puntata Questa va sui nuovi mostri immediatamente Cari Miche e Gio, siamo Francesca e Viola E vi scriviamo dalla Valle d'Aosta Io mi auguro più grande Che questa si convinca di aver trovato il bagno E va qui, insomma, diciamo così Qui nello... Francesca e Viola ci scrivono dalla Valle d'Aosta Gulpe è il canale più divertente che ci sia Perché oltre a esserci Pazzi, furiosi, cartoni animati Ci sono anche interessanti documentari Salutateci Pinuzzo e Pinuzza Ma che è il suo il mio nome? Sì, guardi Oh mamma mia, che bello, Michele Francesca e Viola Francesca e Viola La salutano Ciao Francesca e Viola Ti saluto da Pinuzza Benvenuti Ma che... Ah, ricomincia ogni volta Comunque saluto anche Pinuzzo E anche il mago Michelini È un saluto da mago Ma che è il mago per tutti quegli scemini? No, fa gioire grandi e piccini Comunque hanno fatto degli indovinelli Sì Io provo sotto a parli a lei Qual è il colmo per un giardiniere? Piantare la fidanzata in primavera Che cos'è? Ha mangiato una caramella balsamica? È la lancia per la risposta Ah, allora Qual è il colmo per un pompiere? Che cos'è? Ma che cos'è? Sembra un cazzo Vedere sfocato senza occhiali Sfuocato? L'ultimo, l'ultimo Il colmo per un tennista Io giro e leggo la soluzione Ridere a tutte le battute Beh, fantastico Francesca e Viola Queste vanno ad arricchire Il mio già grande repertorio di battute Colmi ad effetto Allora Lei non so se lo sa Gentile Pinuzza Ma sua cugina Il sabato e la domenica Nelle puntate XL Sì, lo so Si va a fare la tinta e capito? Sì, sì No, legge delle notizie Su dei gruppi musicali Ah Vediamo insieme Che è meglio il servizio Se poi vediamo di dare qualche notiziola in più Chi sono? Chi sono? Si sono persi Il Lost E dove? Dove? Il Lost Allora, questa canzone è stata la mia suoneria del cellulare per anni, 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 devo dirlo E anche se teniamo conto che un anno fa il Lost Che cos'è? Scusi, se lo faccio dalla musica Eh sì, se faccia prendere anche dalla polizia la prossima volta Pensate che un anno fa il Lost non erano nessuno Ma oggi, ad oggi hanno già un album alle loro spalle Li conosciamo tutti, naturalmente sono Walter, Filippo, Roberto e Luca Li conosciamo tutti tranne me che ho dovuto leggere i loro nomi Li conosco anch'io, pensa Pensa, loro hanno avuto un grandissimo successo di pubblico con il loro tour La capetta per loro è decisamente finita, ormai sono dei big Sono dei big? Sì Beh, quasi tutti sognavano di fare i musicisti, già da bambini Sì, sì Tranne Roberto che voleva fare il pilota Sì, e secondo loro un mondo governato dai ragazzi Secondo loro sarebbe molto più divertente perché i giovani sono il futuro Eccolo, fantastico E lei invece è il passato, remoto Io sono il giovane, guardi, non sembra, ma ho l'età dell'Oro Certo, certo, l'età dell'Oro forse Allora, un'altra curiosità che abbiamo scoperto su internet Vediamo qui, Walter, leggo, ha un tatuaggio Sì Ed è, si è tatuato, una frase tratta da una canzone del gruppo Good Charlotte Sì, che si è seduto accanto a un faggio No, no, il gruppo Good Charlotte ha un tatuaggio Su questa frase che lui ha addosso significa Nessuno in questa industria mi capisce Quando canto del mio passato non sto fingendo né recitando Sì Traduca in inglese questa frase Sta camminando, va bene, sta camminando vicino a un faggio Giù, certo, il tatuaggio E può sentire da tutti Non è che siamo un po' duri d'orecchio, no? Eh, sì, guarda, leggo una letterina Leggo una letterina Ciao amici, sì Michi e Geo Io sono Federico, 5 anni Ehm, 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 ehm Abito a Mortara Un paese della Valle Dove abito? Non ho capito A Mortara Mortara? Sì Abito in una cassa molto bella Dove hanno un spazio molto grande dove giocare E guardarsi generamente In colla e la CV in compagnia della mia mamma e del mio papà Ah, sì, sì Mi fate molto divertire e ridere Tu, Michi, smettila di mangiare tanti panini Perché ti fanno male alla pancia E Michele Te l'ho detto che sei ingrassato con i 6, 7 Ma che ingrassato? Vanno a 8 o 9 chili Ma sono in forma sbagliata Si vede? Le messi tutte qui, le messi Non metta qui, non mi tocchi Allora, mangia invece come me le carote Che fanno bellissimo alla mente Ma che è questo dito? Che fa? Alla mente Questa mente qui Questa è la fronte? Fa malissimo Tu, Gio Sia carina e simpatica E se tu lo vorresti le sposerei Sei la mia reggina Oh mamma Si emoziona lei quando parlano di sua cugina Mia cugina ha risolvuto una proposta di matrimonio Sua cugina però, scusi Le tolgo questo tentacolo dalla bocca Sua cugina così ci ha confessato che entro l'anno Potrebbe sposarsi Così le ha predetto una maga Sì, io farò da del Simone Eh sì, ma mi immagino Già immagino il mio vestito Guardi, lascia passare Devo portare pure le fedi Allora, ho disegnato e ritagliato queste casette per voi Spero che vi saranno utili Amo il mare e la neve, ma non posso sempre stare in vacanza Mi dobbiamo anche andare a scuola Ora vi saluto e faccio vedere Che cosa ci ha mandato bellissimo Dei disegni per il plastico Come funziona il plastico? Sì, certo Non quello per gli esplosivi Il plastico Sì, sì Qualcuno, qualcuno ci ha portato via minuti preziosi E chi sarà mai tale pinuzza? Venga qui almeno a salutare la puntata XL Venga qui Cioè la puntata Ben pinuzzi! Allora no, puntare le volte a volte È finita, è finita Mi chiamiamo di Michele E per le prossime puntate un cornetto uditivo Prometto